Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Dico, regioni governate alla sinistra, quindi non sto facendo lo scaricabarile fra destra e sinistra. Invece vada a tre case e si occupi e parli con i cittadini invece di fare video in questo modo. Perché obiettivamente dalla politica ci si aspetta le soluzioni, non solo le scenette. Chi governa si deve prendere le sue responsabilità. Da questo punto di vista De Luca ha anche detto delle bugie. Perché anche grazie agli interventi di Fratelli d'Italia, nei passaggi della riforma è notevolmente migliorata. E si dice che ci dovranno essere i livelli essenziali di prestazione. Che tra l'altro non solo ci dovranno essere, ma dovranno essere valutati e finanziati. Ovviamente non come dice lui, non dovranno avere i soldi. Però dice Giorgetti, il ministro dell'economia, che però il bilancio non deve essere toccato. Finché non riusciremo ad avere i soldi adeguati per i LEP, non partirà la riforma nei dettagli come è stata prevista. E questo è scritto nero su bianco. Ma aggiungo che i livelli dei LEP, perché lui dice che il governo mette i livelli essenziali di prestazione bassissimi e quindi di fatto si aggira al problema, devono passare obbligatoriamente dal Parlamento. Cosa che non era prevista. Quindi c'è una garanzia seria dell'unità nazionale perché il Parlamento rappresenta tutta Italia. Aspetti che per me è una notizia importante, onorevole Donzelli. Lei ci sta dicendo, intanto il livello passa per il Parlamento, è vero. Cioè qual è il riferimento? Il Parlamento è una garanzia di unità nazionale. Perché il Parlamento è una garanzia, lei dice, e quindi non può passare il livello minimo. Lei dice che ci sarà il vaglio del Parlamento per fare un livello medio accettabile. Però lei ha detto una cosa più precisa, se non sbaglio, voglio capire se ho capito bene. Cioè lei sta dicendo, siccome si è detto che ci vorrà un anno per definire tutto il 2024 per definire i LEP, quindi lei sta dicendo che fino a tutto il 2024, cioè fino a che non c'è scritto nero su bianco quanti soldi ci sono, e fino a che i soldi non ci sono, l'autonomia non c'è. Non è che noi si può pensare, noi vogliamo cambiare l'Italia in due mesi. L'autonomia c'è perché passa una legge, perché si inizia a lavorare, poi i risultati e la concretezza arriveranno ai tempi utili. Se non si fosse iniziato questo passaggio non ci saremmo mai arrivati. Intanto c'è, poi dopo arriverà la conseguenza e la praticità nei territori, nel momento in cui potremo garantire l'autonomia, ma anche al tempo stesso un sostegno nazionale importante, un'equità tra le varie regioni. E questo c'è perché nel centro-destra abbiamo insieme stabilito queste cose, grazie alle richieste fraternità e alla sensibilità anche della Lega. Fabrizio, cosa non ho capito? Ma guarda, io non è che non...